Intenso lavoro poi la polizia locale di Trieste che in questi giorni ha divulgato l'esito di alcune operazioni in città. Le attività si sono concentrate sia nella zona del centro, nello specifico la zona di Largo Barriera, che a Barcola. Nel primo caso si è trattato di ispezioni volte al controllo degli alimenti messi in vendita da alcuni negozi etnici nella zona di Piazza Garibaldi. Qualche tempo fa due consiglieri circoscrizionali di Fratelli d'Italia, Maurizio Ciani e Giovanni Nasti, mi hanno posto il problema di Piazza Garibaldi. Ho ricevuto tantissime segnalazioni e abbiamo deciso di accogliere e di ascoltare tutte queste richieste e di provvedere, perché per noi è fondamentale far sentire alla cittadinanza un senso di sicurezza. Rispetto alla seconda operazione è attenzionata sia la zona di Barcola che il giardino pubblico dei Tomasini e il comprensorio di case popolari di Valmaura. I controlli si sono svolti mercoledì con il dispiegamento di una trentina di operatori in divisa e in borghese, che hanno agito di concerto con l'unità cinofila della polizia locale di Bibione, che ha messo a loro disposizione Conan, un pastore belga malinois. È stato proprio lui, nella pineta di Barcola, a orientare gli agenti verso un 32enne, il quale, accortosi della situazione, ha cercato di allontanarsi. L'uomo aveva nello zaino 20 grammi di hashish, suddivisi in più dosi. Dalla successiva perquisizione domestica, gli agenti hanno sequestrato altri 350 grammi di hashish, 50 grammi di marijuana, più dosi di oppio, denaro contante e materiale per il confezionamento delle dosi. Il 32enne è stato arrestato per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio e recluso al coroneo. Da questo è un'operazione di cui sono davvero orgogliosa, un'operazione programmata da tempo, che nasce con il supporto della polizia locale di Bibione, con cui la polizia locale di Trieste collabora. È stato fondamentale anche qui ascoltare il territorio. Barcola, Valmaura e Giardino Pubblico sono state le destinazioni di questa operazione, che ha dato grandissimi frutti. Un'operazione che ha coinvolto parecchi agenti anche in Borghese, una trentina di persone, di vari nuclei della polizia locale e anche qualche nuovo assunto, che così è stato immediatamente coinvolto nel gruppo operativo. Nell'ambito della stessa operazione sono stati effettuati decine di controlli, durante le quali sono stati sequestrati due coltelli a Serramanico. I possessori sono stati denunciati a piede libero per apporto d'armi abusivo di armi e di oggetti atti a offendere.